Oggi vi portiamo nel beach club più elegante, romantico e con la vista più bella di tutta la campania. Sognatori e sognatrici, venite con noi senza spedoneuro. Con oltre 55 anni di storia e celebri ospiti tra cui Maradona, Lenny Kravitz, Danny De Vito, Lebron James e molti altri, il Giardino Eden è una vera e propria gemma situata nella splendida baia di Carta Romana, raggiungibile o via terra o con la barchetta via mare da Ischia Ponte. Una volta arrivato lì, sarai immerso in uno scenario straordinario tra il maestoso Castello Aragonese, Capri e il Vesuvio. Il beach club è costituito da una zona sorarium sul mare, con uno scoglio privato, un molo e tre pontini in legno, tutti attrezzati con comodi lettini prendisole. Qui potrai rilassarti e gustare un aperitivo con vista sul mare e se hai voglia puoi fare anche un tuffo nelle piscine idromassaggio. Ma ciò che rende davvero speciale questo beach club è il suo ristorante, che propone una cucina legata al territorio e alle tradizioni isolane e napoletane. Ti consigliamo di assaporare le cozze alla griglia, ispirata alla famosissima ricetta di nonno Ugo, e il pacchero allo scoglio, indimenticabile. Se cerchi ricci di mare, qui non li troverai, perché i proprietari si impegnano nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Il Giardino Eden rimane una delle esperienze più straordinarie di questo fine stagione, adatta a tutti coloro che cercano autenticità ed esclusività. Salva il video se il prossimo anno sarà una meta che non vorrai perderti.